La Banca di Credito Cooperativo come ogni anno presenta il suo bilancio, quest'anno nella Sala Verdi del Teatro di Fano, presenta anche un libro nel quale racchiude tutta l'attività di un anno, il 2013, per vedere e confrontarsi anche con i soci, con i dipendenti e con quanti condividono questa mission di questo istituto di credito così importante per il territorio. Come ogni anno avviene anche una tavola rotonda con un tema portante, un tema trainante, dove testimonianze importanti danno il loro contributo. Il tema di quest'anno è il mercato estero come un'opportunità per imprenditori, per istituti di credito e anche per le istituzioni. È dal 2001 che la Banca di Credito Cooperativo di Fano presenta il bilancio sociale, quindi un chiaro rendiconto delle sue attività che fa in favore del territorio. Come ogni anno c'è un tema, quest'anno il tema sarà quello dell'internazionalizzazione, cioè come le imprese, le piccole e medie imprese della nostra zona si posizionano sui mercati esteri. In questo momento, in questo così che stiamo vivendo di congiuntura, di crisi, qual è la funzione di una banca? Cos'è una banca in questo momento? È importante fare degli incontri come quello di oggi, sicuramente non abbiamo focalizzato l'analisi dei grandi indicatori macroeconomici, d'altronde i dati sono abbastanza eloquenti da un punto di vista negativo e non c'è bisogno di interpretarli. Abbiamo pensato di porre il focus su cosa possiamo fare e cosa possiamo fare? Ritorniamo al nostro essere banca, una banca di persone, una banca di relazioni, io direi una banca di comunità che ha l'obiettivo di mettere in rete, di comunicare tra tutti i portatori di interessi, quindi soci, clienti, collaboratori, per dare anche occasioni di crescita insieme. Che differenza passa quindi tra una banca fatta da persone per le persone e una banca invece di sistema, di comunità? Una banca di comunità vuol dire lavorare con un obiettivo comune, lavorare in squadra, cercare di mettere in comunicazione quelli che sono i punti di forza e cercare di cogliere un po' quelle che sono le aree di miglioramento. Il settore estero è un settore sicuramente importante, è molto generico, dobbiamo anche individuare gli specifici mercati in termini di prodotti o di occasioni di sviluppo. Partiamo da alcuni punti di forza che dal nostro punto di vista è quello di essere italiani. Il brand Italia ritengo che abbia ancora un valore enorme, lo dobbiamo però curare, proteggere, alimentarlo anche con l'innovazione. Da questo punto di vista dobbiamo ritornare con uno slogan, dobbiamo ritornare ad essere quello che siamo, scoprendo i nostri valori, i nostri principi distintivi. Io sono Stefano Glory, responsabile del servizio Soci. Stavamo appunto parlando di Soci. I Soci sono il primo patrimonio della banca di credito cooperativo di Fano che ad oggi è costituito da 6.212 persone. Come si può notare dal grafico che poi avete inserito all'interno del volume, la compagine sociale è stata caratterizzata da una costante e significativa crescita nell'ultimo decennio, quasi triplicato. Circa 4.000 persone dal 2004 ad oggi hanno scelto di diventare soci della banca di credito cooperativo di Fano. Persone del territorio che vivono nel territorio, svolgono la loro attività nel territorio e rappresentano tutte le zone di competenza della banca. Tutte le zone di competenza e anche tutte le età. Qui abbiamo un altro grafico che rappresenta la composizione, la distribuzione della grafica della compagine sociale. Da notare che oltre 1.000 soci hanno un'età compresa fra i 18 e i 40 anni, 1.500 se estendiamo la fascia 18.45 e di questa fascia il 37% è rappresentato da donne. Proseguendo poi nell'analisi, diciamo che numerosi e diversi sono i vantaggi di essere soci. Massimo De Santis, responsabile commerciale. Indubbiamente le iniziative commerciali 2013 hanno risentito e si sono concentrate per una buona parte sul discorso del credito. Questo in considerazione della grave crisi che ha colpito e che sta colpendo il mercato e crisi che ha colpito inizialmente le aziende ma poi ovviamente di conseguenza anche le famiglie. Quindi la banca ha voluto dare un forte segnale di presenza sotto l'aspetto del credito. E questa presenza tra l'altro viene anche confermata dalle innumerevoli ristrutturazioni del debito che abbiamo fatto con la clientela, in particolare riguardo ai mutui e una particolare attenzione rivolta nel 2013 ma anche nel 2014 al microcredito. Per quello che riguarda le iniziative proprio commerciali, campagne commerciali 2013 sul credito mi piaceva ricordare una campagna che ha avuto e sta avendo un buon successo che è quella relativa ad un finanziamento, campagna che si chiama Sosteniamo la Ripresa riguarda un prestito rivolto ai privati per la ristrutturazione dell'abitazione ma anche per gli interventi di risparmio energetico. Buonasera a tutti e benvenuti anche da parte mia. Sono Massimo Diddio, responsabile del servizio assicurazioni della Banca di Credito Cooperativo di Fano e anche l'ambito assicurativo che stasera potrà dare sicuramente un contributo alle tematiche che tratteremo. La nostra banca negli ultimi anni ha avuto una sempre crescente attenzione nei confronti del Banco di Assicurazione tanto che oggi noi intermediamo ed eroghiamo servizi assicurativi per milioni di euro. Gran parte dei clienti che viene nelle nostre filiali si avvale della consulenza della nostra consulenza quindi sul Banco di Assicurazione ed acquista le nostre polizze. La Banca di Credito Cooperativo di Fano è la prima banca regionale ed è tra le prime 20 BCC in un panorama nazionale che vede come player oltre 350 banche di credito cooperativo quindi questo dà un'idea della dimensione e del nostro ruolo. Quindi ogni donna e ogni uomo della nostra struttura è dotato di un'elevata professionalità quindi è in grado di poter fare una consulenza ed è ormai ed abbiamo maturato comunque un grado di esperienza importante che può essere utile per dare quella risposta alla crescente esigenza di tutela che oggi il territorio vuole ed è anche in questo qui che si sviluppa il ruolo della banca locale. L'Albatro si è nata nel 1990 fondata da parte mia e da altri due tecnici e lo stesso esperto del settore del trattamento delle acque. Eravamo partiti con degli impianti piccoli nel settore domestico e poi piano piano abbiamo preso il settore industriale e abbiamo realizzato impianti anche per grandi comunità quindi per comuni, regioni eccetera eccetera. Noi rispettiamo anche l'ambiente infatti facciamo anche degli impianti che sono per bonifiche di siti inquinati trattamento di acqua di falda inquinati con idrocarburi quindi questa è un'altra attività che è nata qualche anno fa quella di trattare le acque inquinate negli ex stabilimenti chimici e metallurgici. L'azienda ha una struttura piramidale quindi c'è l'amministratore che sono io che controlla su due uffici importanti quello tecnico e quello amministrativo e a loro volta controlla l'ufficio qualità e l'ufficio acquisti. Soprattutto Albatros si rivolge al mercato estero e noi esportiamo in paesi africani, oceania e in paesi asiatici. L'estero non è facile ci sono comunque molte agenzie che possono proporre dei paesi interessanti dove ci può essere anche lo sviluppo. Albatros chiaramente ha partecipato a diverse fiere nazionali e internazionali e lì ha sviluppato dei contatti con degli operatori del settore di altri paesi che non erano in grado di fare degli impianti con certe tecnologie di prestigio come invece utilizziamo noi. L'azienda chiaramente chiede alle istituzioni di rappresentarci all'estero in maniera più forte e a volte in alcuni paesi l'Ice è presente e organizza delle fiere appunto per sviluppare il Made in Italy. L'accesso a dei finanziamenti è sempre molto difficoltoso a parte che le notizie arrivano e questi finanziamenti scadono già dieci giorni dopo tu non fai in tempo nemmeno a presentare la domanda in più è una selva di leggi e quindi rinunci al contributo e fai con le tue forze. L'azienda opera con diverse banche, soprattutto con la BCC di Fano e trova un'ottima collaborazione all'esportazione con l'ufficio estero dove c'è personale qualificato che ci propone sistemi validi di garanzia sui pagamenti. Sì, noi come altre aziende crediamo molto nel sviluppare le attività sul territorio e quindi la collaborazione con la banca è importante. Noi per l'estero abbiamo, come dicevamo prima, dei consulenti che chiaramente conoscono le lingue e quando andiamo sull'estero a volte ci valiamo anche di freelance, di personale presi da altre aziende che aiutano i nostri dipendenti nei montaggi, nello start up degli impianti che prima abbiamo venduto. All'estero, oltre ad essere rappresentati da consulenti, abbiamo anche dei venditori residenti ed è nostra intenzione presentarci anche su altri mercati, creare dei punti vendita, non produttivi ma di vendita. Noi mandiamo sempre dei tecnici poi a montare gli impianti che abbiamo prima venduto. Noi facciamo dissalatori, potabilizzatori, impianti di acqua e di scarico e quindi al cliente è dovuto il training. Quindi i primi tecnici montano l'impianto e poi fanno l'istruzione ai tecnici del cliente. In futuro pensiamo di fare prodotti diversi. Vogliamo ampliare un po' la gamma e fare prodotti sempre più specializzati e innovativi. I mercati che vogliamo approcciare sono quelli del Sud America e sono un po' lontano però bisogna provare anche ad andare là. All'estero i prodotti italiani sono molto apprezzati, ma non solo, ma anche noi italiani siamo bravi a lavorare quindi rispetto ad altri trenieri senza fare nomi, gli italiani sono graditi. Da noi gli ospiti che vengono apprezzano un po' tutto la nostra cucina. Non c'è niente che non gli piace, mi accorgo quando vado a pagare il conto. L'azienda è nata nel 1978, è iniziato a costruire videogiochi e una volta a una fiera di videogiochi in Germania assieme ai videogiochi c'erano dei distributori automatici che anche questi erano all'inizio. Da lì ho capito che mentre i videogiochi passavano di moda ogni tre o quattro mesi il distributore automatico rimaneva per anni. Quindi un progetto durava nel tempo. Nel 1992 mi è capitata l'occasione di fare un piccolo distributore per i FAP della lavazza, le capsule delle cialde. Parlando poi con i clienti chiedevano se si poteva fare un distributore più importante, refrigerato, eccetera. L'abbiamo presentato alla fiera di Milano nel 1996 mi pare e da lì è scoppiato il boom della GPE. Tante fiere, più si facevano fiere più si facevano contatti con nazioni, con clienti esteri. Infatti se date un'occhiata alla mappa del mondo che abbiamo qua si vede dove abbiamo seminato i nostri distributori. Fino al 2008 c'è stata una crescita sia di fatturato che di macchine abbastanza costante, forse un 10% all'anno. Dopo quando è subentrata la crisi anche questo settore l'ha sentita parecchio. Noi abbiamo compensato il vuoto con un prodotto nuovo ed è la macchina di gelati che può vedere qui dietro alle mie spalle, dove le grandi marche consigliano i nostri distributori per vendere i loro gelati. Quindi la loro rete vendita tutto sommato vende anche i nostri prodotti. La stiamo superando bene proprio perché siamo posizionati in tanti mercati. Nel caso di un cliente straniero noi per l'assistenza cerchiamo subito di addestrare un loro tecnico. Per i mercati esteri si può dire che abbiamo fatto tutto da soli con le fiere. Oggi anche internet sta dando una buona mano. Le fiere all'estero costano parecchio ma noi abbiamo trovato un sistema molto valido. Quello di coinvolgere il partner locale, per esempio a Dubai, il nostro rivenditore, partecipa ai costi della fiera e poi noi diamo le macchine a un prezzo scontato e quindi dividendo i costi la fiera diventa meno onerosa e quindi si riesce a sopportare. I nostri clienti sono contenti di venirci a trovare anche perché gli piace stare a Fano. Hanno avuto qualche problemino quando le strade erano con le buche. Un paio gli abbiamo dovuto portare l'algommista e lì non ci abbiamo fatto una gran figura. Con la BCC noi ci troviamo bene. Per noi è molto importante che quando un cliente ci paga noi entro 24 ore dobbiamo vedere il bonifico. Progetti per il futuro è che la prossima intervista la fate a lui. Il tema di questa tavola rotonda che voi ogni anno allestite per quest'occasione aveva come tema principale l'estero. L'estero anche per i vostri clienti, i vostri soci è una vera opportunità? È sicuramente un'opportunità, chiaramente a più livelli tenendo conto del settore economico e anche delle dimensioni dell'azienda. Però non c'è dubbio che possa costituire un'occasione di crescita prospettica importante. L'abbiamo fatto attraverso la testimonianza di alcuni imprenditori, di alcuni che ci sono già cimentati nei settori esteri da tanti anni ed altri che ci sono appena affacciati. Questo deve essere un po' da sprone, da testimonianza per quelli che vogliono affacciarsi in questo momento. Abbiamo visto che oggi una delle condizioni essenziali per un'impresa è appunto aggredire i mercati esteri. È una condizione essenziale per sopravvivere, direi. Ne parliamo allora in questa tavola rotonda e comincio a invitare gli ospiti qui alle nostre sedie. Aurelia Ballarini, responsabile del servizio estero Banca di Credito Cooperativo di Fano. Un applauso mentre li accogliamo. Alberto Drudi, presidente della Camera di Commercio di Pesaro Urbino. Prego presidente. Il professore Alessandro Pagano, un grande piacere averlo, rappresenta la parte accademica, docente di Economia e Gestione delle Imprese, Dipartimento di Economia, Società e Politica dell'Università degli Studi di Urbino, Carlo Bo, tra l'altro insegna anche presso la sede di Fano. Lorenzo Massone, presidente della cooperativa Campo di Fossombrone, producono prodotti bio, dopo ci spiegherà, li esportano in tutto il mondo. Adrio Pierantoni, titolare dell'azienda Zeppelin di Fano, sono arredamenti interni e design. e Pier Giovanni Vitalini, Piero Forza Giovane di Forza Giovane di Calcinelli di Saltara, che ricerca, studio, progettazione e realizzazione di decorazioni artistiche per l'abbigliamento. Qual è il termometro e qual è la temperatura che questo termometro segna delle nostre imprese in provincia e anche nel territorio nostro? Attualmente è una situazione molto variegata, per cui ci sono delle aziende che soffrono, ci sono delle aziende che sopravvivono ma sono in situazioni di attesa e ci sono anche delle aziende che stanno cercando di innovare e ripartire. Una tipologia di azienda a cui noi stiamo cercando un po' di osservare e seguire sono proprio i campioncini nascosti, quindi oltre ai soliti noti cercare di capire in che modo i piccoli e medie imprese che tipo di scelte stanno facendo per riuscire a recuperare. In alcuni casi il recupero è già avvenuto, per cui il territorio sta vivendo una situazione di riorganizzazione e razionalizzazione, per cui alcune sono uscite dal mercato ma ce ne sono altre che sono riuscite a riorganizzarsi e adesso sono attrezzate per la ripresa che vi auguro verrà. Qual è il vostro metro, il vostro parametro per valutare la vera crescita o il vero decremento di un'economia in una zona? Per quanto mi riguarda io faccio molta attenzione a quelli che sono poi i comportamenti delle imprese, quindi io da economista aziendale cerco di osservare i comportamenti delle imprese e ci sono alcuni settori come ad esempio la meccanica che si stanno riprendendo in modo importante, per cui quello che resta da vedere a mio parere è in che modo le imprese che riescono a sopravvivere si sono attrezzate e se saranno in grado di crescere, perché il mio timore è che dal punto di vista dell'effetto sull'occupazione, quando parliamo di economia locale l'occhio è puntato molto sull'occupazione, il mio timore è che su questo versante il territorio farà fatica, nel senso che le aziende che si sono riorganizzate sono più efficienti anche perché sanno fare le stesse cose se non di più con meno risorse. Venendo al tema della tavola rotonda, il mercato estero rappresenta veramente la panacea, la risoluzione di tutti i mali o è solo una bolla come tante che ce ne sono state? A mio parere il mercato estero è molto importante, però chiaramente la premessa è che un'azienda deve avere un prodotto valido con un mercato ed essere in grado di sfidare la concorrenza, ma il mercato può essere anche qui, quindi non necessariamente un'impresa deve andare all'estero, è chiaro che in molti mercati questa è una delle poche opportunità, quindi bisogna andare, ma bisogna andare attrezzati, perché come ho detto durante il convegno uno parte per l'estero con l'idea di andare a vendere e in realtà poi impara molte cose, per cui quegli spunti che magari ci sono anche qui, quelle scintille che possono far innovare e dare un nuovo prodotto, queste scintille possono anche derivare dai rapporti che si creano con i clienti esteri. C'è sempre stata questa convinzione da parte delle aziende che la nostra banca, essendo una banca locale, magari non è molto dedita ai servizi per il commercio estero e quindi a volte non è presa come banca di riferimento per questo settore. In realtà BCC di Fano, pur essendo una banca locale, offre una vasta gamma di servizi, una gamma completa di servizi dedicati al commercio estero, all'internazionalizzazione, grazie all'appartenenza al gruppo Icrea Banca. Icrea rappresenta il sistema delle banche di credito cooperativo che nel complesso vantano un totale di 4.500 sportelli su tutto il territorio nazionale e servono 6.900.000 clienti. Quindi Icrea ha alle spalle questi numeri e diventa partner importante nelle relazioni con gli istituti bancari internazionali. Allora, io sono abbastanza anomalo qua perché sono un commerciale e non sono un produttivo. Io ho iniziato nel 2000 facendo il contrario di quello che sto facendo attualmente, nel senso che importavo e basta. Quindi io rappresentavo qua in Italia cinque aziende, belghe, olandesi, tedesche, che producevano dei prodotti che fanno tutt'ora di alta gamma e li distribuivo sul territorio italiano. Le cose sono andate bene fino nel corso degli anni, tant'è che nel 2006 la BCC mi ha supportato in un investimento della sede che abbiamo costruito a Rosciano, costruendo un contenitore dove all'interno erano tutti rappresentati questi prodotti che vendevo qua in Italia. Finché poi però mi sono ritrovato due anni fa con il mercato italiano in completa crisi e a non vendere più niente. E di conseguenza ho dovuto in bervissimo tempo reinventarmi l'attività. Io naturalmente riuscivo a vendere questi prodotti sul mercato italiano tramite degli studi di architettura, tra i migliori che c'erano in Italia, perché poi per vendere determinati prodotti gli unici che possono veicolarli sul mercato sono gli studi di architettura. Loro li propongono dentro dei progetti, poi il progetto viene approvato, c'è un contractor che prende l'appalto, sopra erano indicati gli articoli che vendevo anch'io e quindi facevo le forniture. A un certo punto, nell'arco di 2-3 mesi, a cavallo del 2012-2013, diciamo che è stato il punto più critico della mia società, ho utilizzato questi contatti di architetti che proponevano progetti dicendo che finora ti ho venduto questi prodotti su dei progetti, posso partecipare anch'io a realizzare questi progetti? E di conseguenza mi è capitato un primo lavoro in Germania nel 2012, un outlet abbastanza importante, le cose sono andate bene, da lì sono partito, ho cominciato a lavorare in Bulgaria, in Lettonia, in Francia, Svizzera e attualmente l'80% faccio export e non più import. Allora, un'azienda locale che porta la sua esperienza, il suo know-how in una platea come questa per dare dei segnali incoraggianti, con che spirito da imprenditore e da appartenente a questo territorio è venuto qui questa sera? Ma lo spirito è uno spirito positivo, difficile nel momento, è difficilissimo e ne siamo tutti consapevoli, però ci sono degli spazi, ci sono delle possibilità, ci sono delle nicchie dove uno un attimino si inserisce pian piano e continua e vive e cresce nel modo giusto. Ecco, il mercato estero come opportunità, questo è il tema della tavola rotonda, è così, qual è la sua esperienza? Verissimo, io se non avevo il mercato estero e principalmente il francese perché nel nostro mondo la Francia è quella oggi che sta facendo le scelte migliori sul lusso e saremmo probabilmente deceduti, tra virgolette. Ecco, nella scelta di un mercato e del prodotto da piazzare nel mercato, la sua esperienza qual è stata? Come decide, come sceglie, come opera? L'imprenditore innanzitutto deve avere un fiuto, deve essere l'azienda, deve conoscere l'azienda e conoscere il mercato, ma avere fiuto, capire dove ci può essere un'opportunità, dove ci può essere un'opportunità all'estero anche per vedere nuovi prodotti, vedere nuove macchine, nuovi macchinari. Tante volte l'estero, specialmente l'asiatico, ci viene dipinto come un grande concorrente, ma lo è, però ha anche delle opportunità perché noi se siamo qui, molto lo dobbiamo anche il mercato asiatico perché ci sia dato dei grandi suggerimenti. Ecco, quindi da conoscitore di un mercato estero, a quanti dei suoi colleghi, oppure di chi vuole interpretare il mercato come opportunità, la ricetta quale può essere? Come si fa a individuare il proprio target, il proprio obiettivo ideale? La classica valigetta, prendersi la valigetta, oggi il mondo è piccolo, è veramente piccolo, ci si sposta molto velocemente, non aver paura della lingua perché alla fine si supera tutto, quando si hanno quelle quattro parole tecniche che ti servono per il tuo lavoro, puoi andare tranquillamente e poi non rimanere in azienda, ma muoversi. Ecco, muoversi, allora in quest'ottica le fiere che si fanno ancora con dei costi importanti per l'azienda perché andare all'estero, mettere uno stand oppure anche andarci da visitatore, rappresentano ancora un'opportunità, uno scambio di conoscenze, di know-how, come diceva poco fa. Sì, per il mio prodotto e la mia esperienza tantissimo perché la fiera ti mette, vedi altri tuoi concorrenti, vedi come si muovono, cominci a capire cosa fa l'altro e cosa devi fare tu e poi ti portano clienti perché alla fine è un bel mercato, è una bella vetrina, l'importante è che bisogna avere un prodotto, questo non si può andare come una cosa banale, bisogna che il Made in Italy, questa grande creatività che abbiamo dobbiamo tirarla fuori. Ecco, l'idea che si ha dal di fuori di imprenditori di successo oppure che sono riusciti ad avere un target ideale per la propria azienda è quella che sono un po' dei pionieri, degli avventurieri, delle persone che insomma se la cavano un po' da soli, è così o un'idea romantica che uno ha dell'imprenditore? Guarda, ti dico è così, siamo degli avventurieri, dei folli, ma folli nel modo giusto, siamo queste persone che hanno un'idea, se la studiano di notte, in macchina, siamo veramente, è questo l'imprenditore? Noi ci occupiamo di cibo, facciamo pasta e pomodoro biologico, legumi, prodotti di base nella versione bio, abbiamo cominciato con l'estero nel 94, oggi il 90% del nostro fatturato va all'estero, siamo un'azienda molto piccola, facciamo 2 milioni di fatturato, abbiamo tre ragazzi che si occupano del commerciale e diciamo che se non proprio in linea con il suggerimento che dava lui di avere cittadini dei paesi stranieri ai quali vendere, noi abbiamo qualcuno che ha sposato qualcuno del paese dove andiamo a vendere, quindi insomma più o meno siamo in linea con i ragionamenti che fa lui sicuramente la conoscenza delle lingue e l'essere parte dei paesi dove si va perlomeno a cercare di capire eccetera eccetera è fondamentale. Allora, l'internazionalizzazione innanzitutto non è per tutti, ci sono delle imprese che lo possono fare delle imprese che non lo possono fare perché non sono strutturate per farlo. Io sento parlare noi come Camera di Commercio abbiamo costruito tantissime opportunità. Se dal 2008, inizio della crisi ad oggi, la provincia di Peso Rusbino ha avuto un trend di aumento dell'export del 2,5% è grazie al lavoro che anche come Camera di Commercio insieme a molte imprese che hanno rischiato e abbiamo fatto. Andare all'estero significa innanzitutto, perché molta gente è andata all'estero pensando di andare a vendere qualche prodotto nel nostro paese come si faceva un tempo. La nostra tradizione, la tradizione dei nostri imprenditori era avere un buon rappresentante che girava l'Italia, tutt'al più l'Europa e vendeva i propri prodotti. Oggi non è più così. Non è più così perché cambiano, ci sono dei fortissimi cambiamenti, entrano nel mercato dei paesi che finora non c'erano e con delle culture diverse, delle storie diverse, delle religioni diverse e come diceva il professore bisogna per entrare sul mercato e per restarci bisogna anche riuscire a radicarsi. Radicarsi vuol dire conoscere soprattutto, perché se no tu non riesci a radicarti in quel territorio, in quel mercato. Noi come Camera di Commercio abbiamo cercato di portare avanti tutte quelle attività, anche di conoscenza, costruendo tantissime opportunità. La Cina, che o bene o male, per qualcuno male, ma per tantissimi bene, è stato uno dei primi obiettivi su cui la Camera di Commercio ha puntato e ha vinto, la Camera di Commercio di Pesaro parlo in questo caso. Abbiamo un ufficio tuttora su Shanghai e quindi che opera a favore delle imprese. Presidente, un appuntamento annuale importante per vedere quello che è stato l'impegno dell'istituto in un anno solare, però anche per buttare un ponte in avanti. Senz'altro, oltre che la storia di questo anno passato c'è tanto, tanto futuro. È stato molto interessante, soprattutto la tavola rotonda, ma anche le cose che ci siamo scambiate come valutazioni sul nostro territorio, le prospettive, quindi molta fiducia. Che temperatura segna il termometro della nostra zona e dell'istituto bancario della BCC di Fano? La nostra banca si sta difendendo in un contesto non facile. Ho ricordato anche l'importanza di essere parte di un gruppo che è stato validato a livello europeo, quindi sicuramente è un riferimento questo importante, per cui rispetto a altri gruppi bancari, poi abbiamo visto anche gli effetti in borsa, noi non siamo quotate, però sicuramente apparteniamo a un gruppo che si è dimostrato solido. Poi, per quanto riguarda il nostro territorio, indubbiamente la crisi non finisce, ma ci siamo abituati, ci stiamo convivendo e soprattutto c'è una grande speranza perché il nostro territorio è ricco di esperienze come quelle che abbiamo sentito stasera, che fanno ancora occupazione, vendono, vendono soprattutto all'estero, però io credo che il mercato interno, prima o poi, dovrebbe ripartire. Quindi, questo qui è l'augurio che ci facciamo, non dobbiamo ancora resistere, sicuramente per la banca la prospettiva è una prospettiva buona, perché abbiamo dei validi collaboratori, io stasera ho avuto una buonissima impressione, perché tutta la serata è stata organizzata dai nostri dipendenti, quindi lo stesso modo di presentare il bilancio sociale innovativo, con le figure, con le persone, ognuno ci mette la faccia, è stato veramente interessante. La New World è nata nel 1996 da 5 persone, 5 soci, abbiamo cominciato a Centinerola, dopo un anno si siamo trasferiti a Calcinelli, da Calcinelli siamo venuti qua a Lucrezia. La New World produce pareti divisorie per uffici, l'azienda oggi ha 34 dipendenti tra impiegati e amministratori, oggi la New World è diretta da mia figlia che è amministratore, Nobilini Daniela, è un altro socio che è Betty Alfredo, praticamente è direttore commerciale, ci avvaliamo di montatori esterni, quando c'è da fare i montaggi nei cantieri esterni. Principalmente diciamo che l'80% lo facciamo in Italia, siamo associati alla Confapi di Pedaro che praticamente anche loro tutte le volte che ci sono fiere ci mandano email se vogliamo partecipare e in questo momento stiamo potenziando molto anche il discorso estero. Adesso stiamo facendo un bel lavoro a Dubai, siamo a Malta, siamo a Cipro, stiamo allestendo un cantiere dell'Eni in Congo per una ditta italiana, non direttamente. Ci si apre di più anche mentalmente lavorando all'estero, si capisce come lavorano anche loro, imparare anche come si lavora dalle altre parti, è importantissimo questo. Noi siamo soddisfatti e sicuramente avremmo dovuto anche cominciare molto prima, cercare di diversificare il fatturato tra estero e Italia è importantissimo. Bisogna naturalmente prepararsi, farsi aiutare, sono delle istituzioni che ci aiutano, che magari noi non le sfruttiamo. Stiamo assumendo una persona che sappia parlare l'inglese, adesso ci serviamo di questo nostro agente, lei parla tre lingue e praticamente ormai da qualche anno che è con noi, quando c'è da parlare con i clienti esteri li passiamo direttamente a lei e lei praticamente poi ci riferisce allo sviluppo del contratto che sta facendo. Quest'anno avremmo avuto una decina di visite dall'estero, il prodotto italiano fortunatamente è richiestissimo all'estero, c'è un valore che altri paesi non hanno. Siamo diventati soci della banca BCC di Fano, io sono nato anche con la BCC di Fano, abbiamo trovato delle persone veramente che ci aiutano in qualsiasi situazione, ci stiamo trovando molto bene, abbiamo una persona che praticamente era in ferie, l'abbiamo chiamata, è venuto qua a trovarci, perciò non possiamo dire altro che bene della BCC e poi ci piace anche lavorarci perché a me piace lavorare con le banche del posto. L'anno scorso abbiamo creato un'altra piccola azienda che produce porte su moratura e porte anche d'arredo, sei persone però che hanno trovato lavoro in questa realtà che naturalmente stiamo lanciandola e siamo anche lì clienti della BCC perché ci ha aiutato anche, anzi diciamo grazie alla BCC che lì veramente ci ha aiutato, ci ha aiutato e ci aiuterà almeno, spero. La SER nasce nel 1986 per iniziativa di Eusepio Vinceslavo, mio padre, che già dagli anni 70 si era dedicato nel settore dell'arredo negozi, iniziando diciamo con la carpenteria metallica, quindi la scaffalatura e poi oggi diversificando su altri settori. Il target principale era il mercato italiano perché magari l'azienda ancora non era strutturata, oggi il mercato principale sul quale ci orientiamo è l'estero, quasi la metà del fatturato oggi è prettamente estero, oltre che i paesi europei oggi anche sui paesi extra europei. Abbiamo gli uffici preposti e una serie anche di collaborazioni esterne di agenzia che sviluppano sul posto la ricerca del partner ideale, persone che conoscono molto bene il mercato in cui operano. Bisogna conoscere la parte legislativa sicuramente per potersi muovere, quindi è importante avere un referente sul posto. Sicuramente poi un altro punto di forza può essere la partecipazione a delle fiere mirate di settore dove si incontrano esattamente gli operatori del nostro settore. Un consiglio che mi sento di dare alle aziende qui del territorio che non si sono ancora orientate verso l'estero è di informarsi soprattutto anche con gli enti, con la Camera di commercio e comunque magari di approcciare qualche fiera, anche come visitatore inizialmente per vedere anche quello che c'è fuori, quello che è la proposta all'estero. I rapporti con la BCC sono ormai storici, è un partner ufficiale in tutti gli effetti, ci ha accompagnato negli ultimi anni molto brillantemente, quindi riusciamo anche grazie a loro a interfacciarci con questi clienti, a dare un servizio a 360 gradi, anche se è una banca locale, comunque non abbiamo incontrato limiti di nessun tipo. Probabilmente i nostri clienti dall'estero vengono sia per vedere la realtà produttiva nostra di SEV, ma probabilmente vengono anche per vedere il territorio che ci ospita, perché la Valata del Metauro propone decisamente molte soluzioni alternative al lavoro. A livello ricettivo probabilmente potrebbero esserci dei miglioramenti, nel senso che siamo, per quanto riguarda la logistica, siamo in una zona piuttosto centrale e collegata piuttosto bene. Per le strutture ricettive turistiche forse ci potrebbe essere un qualcosa in più. Per superare questo momento di crisi economica è fondamentale orientarsi all'estero. A livello organizzativo l'estero forse ci insegna. Nel comparto nostro del Pesarese forse siamo un pochino penalizzati rispetto al mobile per la casa. E quindi magari se venissero create delle situazioni, degli incontri più prettamente orientati al nostro settore, forse potrebbero essere delle occasioni migliori. Ritengo che le istituzioni, la Camera di Commercio in primo luogo, può sicuramente sviluppare e in alcuni casi migliorare l'assistenza nella gestione delle pratiche burocratiche destinate all'estero. Abbiamo un ufficio a Fano che è aperto per l'estero una volta alla settimana ed è un pochino poco. Nel rapporto con l'estero, penso soprattutto al mercato americano, le pratiche burocratiche sono state inizialmente molto difficoltose, soprattutto perché il mercato americano non è abituato alla burocrazia italiana. È tutto molto più easy. Poi mio padre probabilmente è stato lungimirante, ha capito che diversificare e allestire anche una falegna vera interna probabilmente era la soluzione per poi orientarsi anche verso i mercati esteri. Grazie a tutti.